A parte in contropiede Cone, Mussa Cone, guardate palla in profondità, noi dobbiamo naturalmente fermare l'azione nel momento in cui parte il suggerimento in verticale per Immobile che poi incrocia alla grande in modo magistrale sul palo più lontano. Ecco qui, tra poco vediamo, ringraziamo naturalmente la regia capitanata da Francesco Specchiuli, Settimio Berardinelli e Roberto Cherchi. Guardate, no, un po' più dietro, grazie. Ecco, ancora, ancora, bravi, perfetto, così. Beh, non c'è fuori gioco. Beh, devo dire che però per riguaderire questo è molto difficile. Mi posso dire una cosa? C'è il braccio sinistro che tiene in gioco, al Torino sicuramente non avrebbero sbagliato. È una chiamata non molto facile.